Alia hai un cazzotto Non sei capace Brava, brava, brava Che cazzo di Mila Non sei capace Hai visto il Mila che gli ha fatto fu... Ahahah Ahahah ma chi non sta alla lotta quindi non mi possono fare niente io mi sono levato da questa scena io non c'entro niente neanche lorenzo questo va su youtube ve lo dico prima pj dj adesso è un gay però stanno giocando non so incazzati cinesi stanno solo a giocare stanno fumato lo sai che questo va su youtube sono famoso possiamo stoppare